ciao sono andrea di admo milano sono qui per spiegarvi come abbiamo fatto l'effetto fotocamera di facebook se può essere utile utilizzare anche per voi personalmente comunque uno dei primi appuntamenti che faremo in cui raccontiamo un più o meno come facciamo le nostre grafiche all'interno dei nostri siti presento la pagina iniziale di chroma come vedete personalizzata 30 anni pieni di vita andiamo su facebook digitiamo facebook.com slash frames slash manage selezioniamo non la mia pagina personale ma la pagina per esempio di milano e creiamo una nuova fotocamera quindi apriamo frame studio sulla destra mi chiede di immagine profilo o fotocamera di facebook a questo punto uno carica gli elementi decorativi in questo modo va a cercare l'elemento decorativo in questo caso per esempio abbiamo facciamo uno di semplice per esempio prendiamo il covid qua carico delle immagini che avevo già preparato con il png trasparente lo si mette in questa posizione si vede come viene messo all'interno dell'anteprima della fotocamera come in questo caso ok ok poi si fa anteprima su mobile facendo anteprima su mobile viene visto all'interno del nostro mobile come si fa a vederlo sul mobile l'ho già preparato degli screenshot uno apre facebook in questo modo ok si trova all'interno della pagina con l'iconcina a forma di campanella quindi si clicca sull'iconcina si va a vedere visualizza motivo cliccando si apre la fotocamera di facebook in alcuni casi è necessario dare accesso ai permessi all'applicazione di poter accedere alla fotocamera e al suono glielo date si apre la fotocamera di facebook in questo modo inquadrate come ho fatto io vedete che c'è il logo per esempio si schiaccia qua dove c'è la forma di la faccina che dentro si apre praticamente l'effetto si può aggiungere lo sticker in questo caso vi mostro il tag uno schiaccia il tag a questo punto scrive admo milano lo seleziona tac da ok e praticamente abbiamo la nostra storia con la foto in questo caso qui una tazza admo milano il tag a questo punto puoi o salvare la storia in questo modo su salva e quindi condividere in altro modo oppure fare proprio la storia e quindi mandarla sul proprio profilo personale una volta che abbiamo fatto l'anteprima ci piace abbiamo visto che funziona possiamo fare questa cosa andiamo avanti gli diamo un nome per esempio test in questo caso può essere attivo ovunque oppure programmabile può avere una durata una fine uno può decidere che la può fare in un certo modo e per esempio uno può dire che vale sempre oppure magari la voglio far usare solo per un determinato giorno e quindi l'effetto sarà disponibile solo per quel determinato giorno metto una parola chiave serve per essere ricercati all'interno di facebook o di google si fa avanti a questo punto praticamente il se io faccio pubblica mi trovo praticamente la fotocamera a disposizione questo punto la posso o inviare o non inviare o salvare come bozza salvare come bozza mi consente se io la pubblico vuol dire che viene pubblicata all'interno del framework di facebook ma non è ancora disponibile finché io non la ho condivido su un sito o mando il link a delle persone per provarla quindi in questo caso se io faccio pubblica una volta pubblicato non potrei modificare il testo tanto poi la distruggo faccio ok pubblicazione dell'effetto benissimo il mio motivo è stato pubblicato a questo punto posso decidere se pubblico condividerlo come pagina ma in questo momento non lo faremo perché è un test pure fare fine in questo momento vedete che attivo si può anche disattivare ok il creator si vede poi a questo punto inviare questo come url a una persona e quindi lo può trovare lo puoi mandare via whatsapp o in qualsiasi altro modo uno lo può testare e finire se funziona lo può inviare al dispositivo come abbiamo fatto prima via dispositivo quindi come prima apri facebook campanella visualizza motivo vedi la cosa e poi dopo la puoi gestire fino ad arrivare alla storia al tag e mandare oppure creare un post creando un post praticamente viene messo a disposizione delle persone che seguono la pagina comunque uno clicca e si apre in questo caso la fotocamera di facebook e uno può decidere se fare una storia una foto un video usare effetti come boomerang o altro di cose di questo tipo una volta terminata questa fase diciamo uno può anche decidere che la tiene non la tiene in questo caso il test lo metto in modalità non attivo in modo che non venga utilizzato ed eventualmente lo potremo utilizzare per altre cose questo è il primo tutorial che viene fatto con il logo admo quindi grazie per aver seguito questo tutorial e arrivederci a presto ciao d'andrea